Un interessante incontro ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio che hanno avuto l'occasione di conoscere meglio il proprio territorio prendendo parte al convegno alla scoperta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni svoltosi nell'ambito del progetto ISA presso l'auditorium della scuola dopo i saluti istituzionali del professore Biaggio De Luca, primo collaboratore della dirigente scolastico la professoressa Carmela Taglianetti e del sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica si sono susseguiti gli autorevoli interventi di Giuseppe Coccorullo e Romano Gregorio rispettivamente presidente e direttore della Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e di Domenico D'Amato, presidente della cooperativa sociale L'Opera di un altro hanno preso parte all'incontro gli studenti delle classi terze e quarte dell'istituto che, fanno sapere dalla scuola, hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza della storia del parco, considerato il secondo parco protetto più grande d'Italia istituito nel 91. L'istituto ricorda poi che nel 97 il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è divenuto riserva della biosfera MAB dell'UNESCO, mentre nel 98 l'UNESCO ha inserito i siti monumentali di Pestum, Velia e la Certosa di Padula nella lista del patrimonio dell'umanità. Nel 2010 il parco è divenuto geoparco della rete europea e mondiale. Infine un accenno alla straordinaria ricchezza naturalistica dell'eterogeneo territorio che ospita una vasta gamma di habitat naturali con una grande varietà di flora e fauna che, unitamente alla dieta mediterranea, radicata nel territorio e inserita nella lista dei beni del patrimonio immateriale dell'UNESCO, concludono dalla scuola, rendono il parco un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore che le nuove generazioni devono conoscere, amare e preservare.